Oggi qui a Pisa abbiamo Fati Kriat della Jordan Valley Solidarity Campaign. È uno degli attivisti palestinesi della società civile più conosciuti a livello internazionale nella difesa della Valle del Giordano, che è quella che separa la Cisgiordania dalla Giordania. Dovrebbe essere territorio palestinese, invece è quasi completamente ormai controllato da Israele. Soprattutto le terre, le fonti d'acqua sono state ormai espropriate ai contadini palestinesi. Qui a Pisa, un ponte per, rete Radiresh, tantissime associazioni che sostengono la causa del popolo palestinese hanno realizzato in collaborazione con Fati e molti altri campagne di boicottaggio, soprattutto ad esempio di prodotti agricoli israeliani che vengono prodotti nelle colonie su terra espropriate ai palestinesi. E oggi ci vogliamo confrontare con lui per capire a che punto è la loro lotta e come possiamo noi internazionare e contribuire e sostenerli. Perché la resistenza popolare non violenta in Palestina è una realtà solo se la comunità internazionale è disponibile a sostenere e a dare visibilità all'azione dei palestinesi. So what are the activities of the Jordan Valley Solidarity campaign on the ground? We are trying to put light on the Jordan Valley issue where the palestines face a daily aggression violating their human rights. We are a grassroots non-violence movement helping the palestines people to exist in their homeland. Siamo un movimento di base che aiuta i palestinesi a continuare a esistere nella loro terra in quanto nella Valle del Giordano i palestinesi si trovano di fronte a una continua giornaliera aggressione da parte dell'esercito e dei coloni israeliani. Le nostre attività sono volte inizialmente ad assicurare i beni di primaria necessità per i palestinesi. quindi le case che vengono spesso distrutte dalle forze armate israeliane che quindi devono essere ricostruite, le scuole, l'acqua. And of course we are trying to inform and to speak out about the situation there trying to make all kind of pressure against this longest occupation in the recent history by trying to make a kind of mobilization inside the palestines and outside the palestines to make pressure against the occupation to bring it to its end. E poi facciamo informazione, sensibilizzazione su quella che è la più lunga occupazione della storia recente, nella storia recente. Quindi cerchiamo di informare su questa situazione affinché questa occupazione un giorno venga in termini. Since the occupation in 1967 until now Israel managed to force more than 90% of the palestinian population from the Jordan Valley using different kind of ways to force them out from the Jordan Valley like using the direct forest, the direct military forest to knock down their houses and to smash their farms and to prevent them from reaching the water resources and in direct collective punishment like controlling the every drop of water and preventing the palestines from using their own water resources. Dall'occupazione del 1967, quindi dall'inizio, Israele è riuscito a cacciare via dalla Valle del Giordano oltre il 90% della popolazione originaria palestinese tramite violenza diretta quindi ad esempio distruggendo le case, distruggendo le aziende agricole e anche tramite forme di pressione indiretta e quindi ad esempio impedendo loro di avere accesso a un goccio d'acqua. La lotta per l'acqua è forse la più importante perché che nel momento in cui l'esercito israeliano è riuscito a controllare l'acqua ha reso la vita impossibile per i palestinesi. Dall'acqua è riuscito a controllare l'acqua di palestinesi e riuscito a lasciare l'acqua di palestinesi. Le colonie illegali israeliane che stanno nella Valle del Giordano controllano attualmente il 98% delle fonti d'acqua presenti nella valle. Per cui la popolazione locale non ha accesso all'acqua potabile e la deve acquistare dagli israeliani. La Valle del Giordano, che è uno dei palestinesi più turisti per l'acqua di palestinesi, è bloccato in fronte di palestinesi. La Valle del Giordano è anche bloccata. E non possiamo capire il giro, o anche per vedere il giro di Giordano. Prima di l'acqua, avevamo 52 palestinesi per l'acqua di palestinesi per l'acqua di palestinesi per l'acqua di palestinesi. аемся a vivere in realtà. Per useri in una situazione di palestinesi per l'acqua di palestinesi per gli uicini. Per aver aggiunto le ris Echo di israeli per i loro animali e per le due livello. E' da solo questo tipo di risultati con i palestinesi, che sono trovato per l'acqua di palestinesi per l'acqua di palestinesi. Per l'acqua di palestinesi per l'acqua di palestinesi riuscili bene con i palestinesi per l'acqua di palestinesi per l'acqua di palestinesi per l'acqua di palestine. L'acqua è controllata anche in termini di accesso diretto ad esempio al Mar Morto. I palestinesi non possono nemmeno accedere al Mar Morto che è completamente controllato da Israele. I palestinesi non possono accedere, non possono nemmeno vedere il fiume Giordano. Originariamente c'erano 52 sorgenti d'acqua palestinesi, ovviamente liberamente accessibili a tutti, attorno alle quali erano sorti 52 villaggi. In questo momento i villaggi non sono più vivi perché l'esercito israeliano ha costruito dei grandi pozzi che adesso hanno incanalato l'acqua di tutte queste 52 sorgenti d'acqua.